Era il 25 di marzo quando gli alpini hanno dato il via a quello che potremmo chiamare un ospedale da campo ma che in realtà si sta rivelando un ospedale vero e proprio. In un primo momento si pensava a una tenso struttura con dentro degli spazi dove mettere gli ammalati, poi cammin facendo vista le donazioni, viste le possibilità ma soprattutto vista la generosità della manovalanza si è deciso di fare delle cose molto ben fatte facendo delle pareti di cartongesso, attrezzando in tutto, facendo tutto quello che serve e morale della favola dal 25 marzo al primo di aprile si è allestito un ospedale con 150 posti letto, metà circa per la terapia intensiva e l'altra metà per terapia subintensiva. Tutto questo dicevo grazie agli alpini, gli alpini volontari. Potrebbe sembrare davvero quasi una celebrazione sentire un alpino che parla degli alpini, in realtà sapete che non è così. Gli alpini in silenzio perché li abbiamo sentiti solo di sfuggita in questi giorni, li abbiamo visti solo di sfuggita in questi giorni sulla televisione e sui giornali, ma in silenzio hanno allestito, nel giro di pochissimo tempo, hanno allestito un ospedale di questo genere. La morale che resta sul piatto è molto semplice, c'è un volontariato, inutile che parliamo di eroi, sono persone responsabili che hanno un grande senso civico. La morale che resta sul piatto è molto semplice, è quando non ci saranno più gli alpini. Gli alpini del dopo terremoto, gli alpini delle calamità, gli alpini dell'alluvione, gli alpini delle pandemie, quando non ci saranno più questi vecchi alpini. Ecco perché gli alpini da da tempo propongono che i giovani siano obbligati a tornare a fare un periodo di servizio civile, o negli alpini, oppure nella protezione civile, nella sanità, dove si ritiene più opportuno, ma che diventi davvero un'opportunità perché il domani, ci insegnalo oggi, dipenderà da gente responsabile, generosa, con un cuore grande come quello degli alpini.